Buonasera Furio Colombo, che di campagne elettorali americane ne ha viste tante, ma non so se posso dire mai così mosce come questa, nonostante l'iniezione di adrenalina di questa notte che ha dato a Biden una scossa e una possibilità di diventare davvero il candidato che sfiderà il Presidente Trump. Come la giudica Furio Colombo questa campagna dei democratici? La giudico in tre fasi, in tre modi. Il primo è quello di una prova purtroppo ansiogena dal punto di vista di chi si sente dalla parte del Partito Democratico americano e quindi contro Trump, una prova di debolezza. C'è stata debolezza nel partito, c'è stata debolezza nella Camera e al Senato, c'è stata la conduzione molto modesta e di qualità, certamente non un'eccelsa dal punto di vista politico e nella conduzione dell'impeachment, che è stata una brutta avventura, ma anche un'avventura modesta. Non è tanto l'essere stati battuti nel risultato finale, ma quanto l'avere dimostrato una certa debolezza complessiva di impianto politico e di impianto organizzativo. In questa campagna elettorale la storia però è nuova e diversa. È nuova perché parte con la corsa quasi spericolata del senatore socialista, nella quale notiamo due cose che sono state la sua vittoria e la sua sconfitta. questo correre avanti da solo come per una elezione individuale, come se si trattasse di sé e non del partito democratico. Questo fatto ha caratterizzato, ha polarizzato con forza il comportamento dei fan del senatore socialista, ma lo hanno anche isolato nel senso di metterlo esclusivamente nelle mani dei suoi fans. Cioè proprio mentre doveva cominciare la corsa per raccogliere la parte di sostegno che ancora gli serviva e aggregarla a quella discreta, forte, leale che aveva già a disposizione, ha continuato la sua corsa con un giovanilismo un po' eccessivo e un po' basato più sull'entusiasmo che sul campo politico. Un po' velleitario, possiamo dirlo? Possiamo dirlo. E si è ritagliato sempre di più la propria figura, che è apprezzabile e apprezzata, dalla figura del prossimo Presidente degli Stati Uniti, che invece avrebbe dovuto essere il suo vantaggio. Senta, Colombo, scusi se la interrompo, ma lei è d'accordo sul fatto che il ribaltamento che è avvenuto nel Super Tuesday veda la regia dietro le quinte di Barack Obama e del cuore del Partito Democratico, che era un po' preoccupato sia perché non c'era un candidato vero, come front runner, come dicono in America, cioè un candidato capace di sfidare da solo il Presidente Trump e dall'altra c'era Sanders che appunto faceva questa corsa, diciamo, da solo. Se posso permettermi di correggere un punto del modo in cui è stata formulata la domanda, Purgatori. Direi questo. Ciò che è accaduto, e noi lo stiamo interpretando, dimenticando la forza e l'autonomia dell'opinione pubblica americana. Gli americani elettori esistono, esistono autonomamente. Vogliono essere cercati, vogliono essere corteggiati, vogliono essere persuasi, ma esistono e sono una forza che ha una propria larga e tenace opinione. Questa opinione, che non è esattamente la scelta fra Sanders e il Vicepresidente, ma è piuttosto una scelta di vita, è che si capisce, si intuisce da questo Super Tuesday che una parte di America, quella che noi consideriamo sempre, e anche la sociologia americana considera un 50-50, 50% per e 50% contro il Presidente, in realtà ci dà un'indicazione di un'indicazione di una maggioranza, quei famosi 3 milioni di voti che la Clinton aveva avuto in più e che non sono comparsi e non sono stati contati all'ultimo momento, nelle ultime elezioni, quei famosi 3 milioni più una zona di antitrampismo che deve essersi creato nella parte dignitosa e alta della vita pubblica, alta non socialmente ma moralmente, della vita pubblica americana nei confronti della politica e della crudeltà che spesso Trump ha dimostrato nelle sue decisioni nazionali e internazionali. Questa parte non è più il 50%, è un po' di più del 50%. Io mi sto sporgendo a proporre che Biden ha vinto più del Super Tuesday, perché una parte di opinione pubblica americana ha voluto dire che sul solo Sanders non erano in grado e non avevano abbastanza coraggio o decisione o sicurezza per decidere, ma avevano bisogno di liberarsi di Trump e quindi hanno scelto il candidato più adatto, più agibile, più legato da una parte al cuore del partito, ma dall'altra perché è stato un buon vicepresidente e un leale collaboratore di Obama legato a un passato americano di cui moltissimi americani sono tuttora orgogliosi. Quindi il Super Tuesday è rivelatore di un'indicazione molto più grande della vittoria di questo momento. E se posso sintetizzare?